buongiorno a tutti oggi primo approccio ai suoni parleremo del tetrachord parleremo della scala musicale chiariremo il concetto di tono e di semitono molto semplicemente che qui abbiamo un suono do a distanza di tono abbiamo un suono re poi abbiamo un suono mi e abbiamo un suono fa questo è il tetrachordo e do vedremo sulla tastiera che partendo dal suono c devo semplicemente accarrezzare tutti i tasti bianchi vedete qui si parla di semitono perché non c'è il tasto nero in mezzo questo è un tono che è l'unione di due semitoni e questo è un tono che è l'unione di due semitoni abbiamo parlato del tetrachordo prima quindi tutti intervalli di seconda si sale al suono adiacente e si scende al suono adiacente eccoci arrivati al termine di questa prima pillola abbiamo ragionato dei primi intervalli amici i a no be 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 be